Non è una giornata dell'Ighe Cretea, Universal contro Animaniacs, partita è finita con il risultato di 3 a 1 a favore dell'Universal e qui con me l'uomo partita Catania, perché è doppietta e battuto Catania in volta, è andata bene, vi siete qualificati, meglio di così non poteva andare. Sì, noi già abbiamo mirato a questo in precedenza, siamo stati una giornata ferma e quindi abbiamo avuto modo di riposarci e volevamo vincere, abbiamo vinto. Ce l'avete fatta contro una squadra che lo scorso torneo, ricordiamo, è arrivata a secondo ai calci di rigore e ha perso la finale? Sì, infatti ci siamo ripresi, è una bella rivincita. Diciamo che ogni volta in questo torneo cercate di qualificarvi, non ci riuscite, siete sfortunati, questa volta avete iniziato bene e avete finito bene. Allora, l'anno scorso siamo usciti ai quarti di finale di ritorno ai rigori e domani c'è stata la stessa partita della squadra vincente contro di noi e contro un'altra ha perso e noi ci siamo amareggiati troppo affinché quest'anno abbiamo deciso di arrivare fino in fondo. Ora aspettano belle partite, no? Anche te la lì che vuol dire, insomma, partire di un certo livello? Eh sì, più si gioca con persone, con squadre forti e più si diventa forte. E più si diverte, no? Chiaramente. Va bene, ti ringrazio ancora completamente. Grazie a voi.